La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Max, ascoltami, devo andare via mezz'ora, non di più, per favore non combinare guai, non parlare con i pazienti ma soprattutto non rispondere al telefono, hai capito? non rispondere al telefono mi raccomando, mi raccomando 30 minuti, non di più non combinare guai pronto studio medico? buongiorno dottore volevo dire che io proprio ultimamente non è che ci vedo tanto bene ah è mio pe si dottore, mi mancano 4 dioscena vado a tutte le ghizie la 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 esiglio buongiorno non è giornata davvero sono Paolo Tirappacchi, della Fast & Fast se sei fast, sei master bravissimo, ho imparato il nostro sbocchio sono momenti brutti, momenti di crisi ma noi abbiamo l'anticrisi per eccedenza un farmaco antidepressivo che risolve i problemi di tutti Cos'è questa cosa? Il non stress. Non stress, non mi interessa. Non stress, all'interno c'è del... Senta che roba. Ma sarà le fame sta cosa. Il no è vero e il no è anche finta. La finta è sta cosa. Se ne vada, per cortesia, non ho tempo. Aspetti perché qui abbiamo una cremina della consistenza incredibile, guardi. Mi interessa, che cos'è? Questa qui serve proprio di far passare tutti i disturbi. Cos'è questa cosa? Questi tutti i disturbi. Mi faccia vedere che cos'è. È crema per le morti... Ma per favore, ma cosa mi dà? Ma lo smetta, in faccia. Ma cosa dice? Ma sto vada via che non è giornata. Abbiamo anche qualcosa di cadente per lei. Ma non mi interessa. Il manuale d'uso istruzioni per il medico moderno. Ma non mi importa, ho una laurea io per cortesia. Ma non servono più le lauree. Ma non c'entra i manuali per cortesia. Mi guardi, mi guardi negli occhi. Oggi non è giornata. Ho perso la mia assistente. Faceva la segretaria, faceva l'infermiera. Non ho più nessuno, mi devo arrangiare. Non ho tempo di perdere tempo con lei. E siamo qui per risolvere i suoi problemi. Ma che problemi? Stia fermo. Che caso è chiuso? Stia fermo. Stia ferma il contrattino, l'assistente la metto io. Ma che assistente? Ma cosa dice che ha le stupidaggini medicinali? Ma ma lo offriamo anche l'assistente. L'assistente. Allora, voi della faster and faster avete delle assistenti adesso. Assolutamente. Delle infermiere, delle segre... Ma non dica stupidaggini, vista lei, cosa vuole avere. Ma non dica... Si tracopiti, se lei firma qui la... Non firmo niente, non firmo niente, ma chissà che disastro di donne potete avere voi. Vabbè, vediamo. Allora vediamo. Valentina, prego, puoi accomodarti. Questa splendida creatura che avete voi della faster and faster... Buongiorno, sono Valentina, l'assistente. E' Valentina. Che cosa si fare per lei? E' firmo. Certo, firmi qui. Firmo qui, firmo qui. Anche per il mese prossimo. Così anche la liquidazione se la manca via. Vada, vada. Fantastico, lei è una persona eccezionale. Non si preoccupi e si riguardi bene con la cremina che le ho dato. Mi raccomando, arrivederla, buona giornata. Allora sì, senti, allora sì. Che emozione. Ma allora è vero, è riuscito a procurarmi un lavoro. Ma certo, è la mia specialità ai fini conti. E addirittura in uno studio medico. Bravissima, era proprio la carica a cui lei ambiva. Ma piuttosto parliamo di affari. Avevamo detto 50 euro, ha ragione. Si fa quella faccia, 60. 100 euro, bravissima. 100 euro ce li ha qui subito così concludiamo l'affare. Ma no, io non ce li ho dietro. Non ce li ha qua dietro? Allora domani, li vengo a prendere io 300 euro per fare c'è lo spedale. Mi raccomando, è sempre un piacere fare affari con lei. Mi raccomando, continui così. Brava la carica. Ma... 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 La la la... La 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 la... Voi chi siete? Noi siamo i fratelli siamesi A e B. Wow. E perché siete qui? Perché siamo depressi. Wow. Vabbè, raccontatemi qualcosa di voi. Ho quasi 40 anni e cambio almeno 5 donne al mese. Wow. Io invece ho quasi 40 anni e dottore le assicuro che non ho mai raccontato così tanto ballo come lui Avanti il prossimo Anche oggi qua? Sì, sono tornato per farmi ricontrollare la pressione Non andava bene ieri, quanto era? Eh, ieri avevo uno e sei davanti e uno e sette di dietro Il dottore oggi non c'è, desiderate? Dedicarti una canzone Nei tuoi occhi vedo il mare Nei tuoi occhi vedo il sole Nei tuoi occhi vedo l'amore E con i tuoi occhi io vedo anche che me la darai Disgraziato! Ti avevo detto che io non ci stavo Però no, bisogna avere un po' più di tatto Pronto studio medico? Buongiorno dottore, sono la signora Maria E volevo dire che mio marito, quando urina, ha dei problemi alla prostituta Volevo sapere cosa vuol dire Ho un sacco di dolore, lei mi deve aiutare Ho un sacco di dolore, non so più cosa fare Dal professor Marmilla voglio farmi curare La la la, la la la, la 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 la, la 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 Grazie a tutti